Quali i motivi che l'hanno spinta ad entrare in Fratelli d'Italia? Innanzitutto l'ideale politico di centrodestra che mi appartiene. Il mio presidente Guarino Testa che oggi è diventato consigliere regionale e quindi questa spinta di un gruppo di amici che in tutti i modi si fa una politica di un certo tipo per il centrodestra fatta bene con anche un'armonia politica quindi in Cardelli, in Alfredo Cremonese, in Massimo Pastore e Guarino Testa raggiungiamo poi anche gli altri regioni. Abbiamo fatto un bel gruppo di amici abbiamo fatto una bella sfida anche in salita nelle regionali e mi ha dato spirito di fare politica. Parte ora il percorso, un percorso importante che vi porterà a Montesilvano, alle amministrative? Sì, le amministrative di Montesilvano sono le porte, noi logicamente ci sarà una valutazione politica di tutto l'operato e quindi insieme di certo si prenderanno delle decisioni insieme ai partiti. Il passaggio è stato diciamo naturale perché è un partito che è vicino a me culturalmente con il quale condivido principi e valori e intraprendiamo un percorso politico per rilanciare l'azione politico-amministrativa sul territorio e per far crescere il consenso politico elettorale di Fratelli d'Italia. In vista delle amministrative di Montesilvano, quale sarà il suo impegno? Allora, intanto noi faremo una lista e esprimeremo un candidato sindaco. Per il momento il nome ce l'abbiamo ma è top secret in quanto dovremo concordarlo con la coalizione di centrodestra. Dopodiché vedremo, la lista la stiamo formando col coordinamento cittadino.